Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qua con l'apertura di 5 pacchetti dei calciatori panini 2021-2022 Questo qua è già mezzo aperto perché è stato mio fratello Comunque cerchiamo di trovare qualcuno dell'aiuto perché non ho quasi nessuno Squadra della Sampdoria femminile, Zola, Ferrari, Stramberg della Salernitana e Candreva della Sampdoria Andiamo con il secondo subito Del Parma abbiamo l'inglese Correia e Man, di Francesco dell'Empoli Il primo avatar, che non so di chi sia, non so, non c'è scritto Stemma dell'Alessandria e Mandragola del Torino Terzo pacchetto Squadra della Sampdoria stavolta maschile Medel del Bologna Ma è lo stesso No, ci assomigliava Un altro avatar, la maglietta della Roma e i primi scudetti della Serie C Andiamo con gli ultimi due Un altro avatar Non avevo ancora trovato uno e adesso tutti Un altro avatar Frosinone, tre giocatori Squadra maschile del Venezia Quadrado E finalmente uno della Juve Ed è anche molto forte Cumbulla della Roma E ultimo pacchetto Di oggi Spinazzola della Roma Amrabat della Fiorentina Allora Benedetti Parodi Della Alessandria Romagnoli del Milan Isai della Lazio Questo è il codice Va bene, ci vediamo molto presto con un nuovo video Ricordate il figurine Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie.